Autunno, tempo di zucche! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ben trovati, ben trovati tutti. Oramai siamo in autunno inoltrato e l'atmosfera autunnale è quella che ci parla di caldo, di accoglienza, di tepori ricercati in tisane ed angoli accoglienti e allora rendiamo accoglienti le nostre case e prepariamoci anche ad Halloween col simbolo dell'autunno, è diventato anche in Italia il simbolo dell'autunno, la zucca. E allora oggi prepareremo una bellissima zucca con dell'aiuta, un materiale povero, facile da trovare e vedrete di bellissima resa. Prima di passare sul piano da lavoro però, in questo periodo lasciatemelo fare, vi ricordo di andare ad acquistare il ricettario dell'arte. Il mio bambino, il mio libro edito da Gribaudo lo potrete trovare in tutte le librerie d'Italia. Ha un prezzo bassissimo, 18,90 euro, meno di 20 euro per avere con voi tutte e tutte le mie ricette. Volete fare una colla? Qui c'è la ricetta. Volete fare un colore? Qui c'è la ricetta. Volete fare uno stucco? Qui c'è la ricetta. Volete giocare con il nipotino e preparare una bellissima pasta modellabile, magari non tossica? Qui c'è la ricetta. Potete soddisfare ogni desiderio creativo con una ricetta estemporanea che troverete in questo bellissimo libro. Bellissimo perché è pieno di amore, l'amore con cui l'ha scritto e con cui voglio accompagnarvi nel vostro percorso creativo. Ricordatevelo soprattutto per i regali di Natale. Il mio ricettario dell'arte vi aspetta in tutte le librerie e poi dopo che lo avrete letto io aspetto le vostre recensioni. Mi raccomando lasciate la recensione, ditemi, datemi il vostro feedback, ditemi cosa ne pensate. Ora lo ripongo, ci spostiamo sul piano del lavoro e andiamo a creare una bellissima zucca di juta. Ed ecco l'occorrente per le nostre zucche decorative. Un cuscino sacrificale da cui estrapolare l'ovatta o ciò che lo riempie. Alla Lidl recentemente al reparto giardinaggio ho preso queste due cose molto interessanti. Questo è un sacco per proteggere le piante che io utilizzerò per i lavoretti, utilizzerò l'aiuta. E ci sono anche le jute a rullo di colore rossocotto come questo, ma c'è anche verde e anche naturale. Io ho preferito questo bel colore autunnale. E costano 4,50 euro mi pare a rullo. E sono molto, molto, molto grandi. Forbici, dello spago, un ago grosso, sì, udite udite, cuciremo, ma neanche tanto. E poi un pezzo di cartone di quelli delle scatole. E poi ci occorreranno anche delle foglie secche. Io avevo messo da parte queste che ho fatte essiccare e userò per la mia zucca, per dare quel quid di naturale. E forse ci occorrerà anche la pistola per collo a caldo con relativa stecca. Iniziamo subito. Come prima cosa facciamo la cosa più noiosa. Prendo il cartone, lo piego e lo arrotolo. Non mi servirà in tutta la sua lunghezza, quindi ne prenderò un pezzetto che sia alto un 15 centimetri. Quindi, assecondando la scalanatura del cartone, quindi l'ondeggiatura del cartone, lo segmenterò, così vedete, e dopo aver piegato, segmentato tutto il cartoncino, lo arrotolo. E stringo forte, così. Con un po' di colla a caldo, lo fisso. E stringo forte, finché non aderisce completamente. Con del cordoncino, che fisso anch'esso con un punto di colla a caldo, Comincio, così, ad arrotolare disordinatamente. Qui ho uno spago fino, se voi ce l'avete un po' più grosso, va benissimo lo stesso, vi sbrigherete prima. E arrotolo, così, e poi ci ripasso sopra per fissare bene il tutto. Una volta fatto questo, sporco leggermente con la colla a caldo la parte superiore, in modo che, semplicemente appoggiando la corda, questa rimanga attaccata, e io possa coprire anche tutta la parte superiore del cartoncino con la corda. Ecco qui, e adesso questo lo metto da parte. Prendo la mia bellissima juta, guardate che meraviglia, e taglio una circonferenza abbastanza grande, prendendo però due pezzi di juta, che metterò uno sopra l'altro. Quindi taglio una circonferenza grande, e non perfetta, non mi interessa che sia una circonferenza giottiana, diciamo così. Quello che avremo alla fine sarà questo bel disco di juta, in doppio, mi raccomando. Adesso prendiamo il nostro spago, prendiamone un bel filo, e taglio. Prendiamo il nostro aghetto, infiliamolo, infiliamolo spago nel lago, e adesso piano piano, facendo ben attenzione a prendere entrambi gli strati di juta, con un movimento entra ed esci, così, passiamo lo spago su tutta la parte superiore della juta. Ok, avremo così questa sorta di sacchettina. Prendiamo adesso il nostro cuscino e apriamolo, e trasferiamo quel che serve dell'imbottitura da qui a lì. Non ci occorrerà tutta, per questo non infilo direttamente il cuscino, ma se avete un cuscino delle dimensioni esatte, potrete infilare direttamente il cuscino dentro, e non il riempimento sfuso. Ok, riempito il più possibile il nostro fagottino, stringiamo i capi, così. Chiudo con un nodo, non tolgo l'ago, perché adesso devo cucire, chiudo con un nodino, così, stringo, 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 perfetto. Lascio il foro per infilare il mio gambetto, però prima assicuro un po'. Con una cucitina l'imboccatura. Questo comunque non impedirà al mio gambo di passare e di infilarsi ben bene. A seconda di quanto è grosso il vostro spago, potete farlo a uno o a due capi, io lo metto a due, lo arrotolo così e lo metto a due, dopodiché faccio la seguente. Passo da qui a qui e stringo un nodino. Faccio un nodo, stringo bene e faccio un nodo. Prendo un altro spago, passo sopra, anzi, così obliqua. Passo sempre dallo stesso punto, anzi, vi dirò di più, ci passo proprio sotto allo spago precedente, in modo che rimanga incastrato e annodo. E ora faccio l'ultimo passaggio e vado su e stringo. Quindi prendo il mio gambo, lo infilo un po' storto, un po' sulle 23, diciamo così. A questo punto avremo tutti questi capetti, giusto? Bene. Giriamoli attorno al gambo, così, e non appena arrivano fissiamoli con un punto di colla a caldo molto basso. Ed ecco qui la nostra zucca bella e pronta. Per chi volesse metterci anche qualcos'altro possiamo fare anche delle foglioline. Io lo so che la zucca non ha le foglie e che quanto mai non siano come queste, però secondo me su una zucca ci sta bella, una fogliolina autunnale, non so, richiama molto al periodo che stiamo vivendo, quindi la appiccicherò perché la creatività si esplica anche nell'invenzione. Quindi invento, prendo una bella fogliolina e la attacco e voilà, e metto anche questa di un verde un po' diverso. Facciamo un po' di disinformazione botanica. Ora, gli esperti mi diranno la forma della foglia della zucca non è quella. sì, lo so, ma le zucche non sono neanche di juta e non importa. Questa è solo una decorazione casalinga, non dobbiamo mangiarla col risotto, quindi tranquilli, tranquilli, è solo un abbellimento. Poi prendo delle rimanenze di cordoncino perché noi non buttiamo via assolutamente nulla, giusto? tutto quello che abbiamo sparpagliato sul piano da lavoro lo raccogliamo, lo ripieghiamo, lo pieghiamo così, eliminiamo gli eccessi, prendiamo un altro capetto che non abbiamo usato, arrotoliamo e facciamo un bel fiocchetto. Allora, tagliamo bene bene tutte pari le frangine, voi mi direte ombretta ma perché fai queste puntualizzazioni? perché voi non sapete poi quanti commenti arriverebbero se non le facessi e mettiamo qua così il nostro fiocchettino e la nostra zucchetta decorativa è pronta per abbellire un angolo di casa nostra. Sbizzarritevi con le forge, i colori, comprate ragazzi queste jute perché sono convenientissime, se fate crafting, creatività, sono veramente convenientissime e pensate anche al Natale per coprire i piedistalli degli alberi. Ora io vado alla Lidl e prenderò anche quella verde, veramente, veramente un bellissimo materiale, guardate che bella la mia zucchetta, preparatene tante e adornate le vostre case. Ora io ne faccio un'altra, dopodiché vi lascio alle foto e ci vediamo dopo che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao e creativo autunno a tutti. Ciao Visto che bella la nostra zucca, ora ditemi che non è davvero carina. Questa sua forma un po' imperfetta che richiama l'autunno, queste fogliolone verdi reali, questa struttura rustica, calda, accogliente, messa in un angolo di casa è subito poesia autunnale e inoltre è un bellissimo regalo da poter fare anche quando andiamo per esempio a cena d'amici una bottiglia di vino, una zucca vicino ed è felicità. Ma come mi vengono? Bene, meno male che le creazioni mi vengono un po' meglio delle rime e allora è delle citazioni diciamo così. Prima di andare via vi ricordo che vi aspetto sempre su Facebook dove è cominciato il corso di disegno siamo già al primo incontro giovedì ci sarà il primo incontro vi aspetto i ritardatari chiunque volesse iscriversi quindi vi aspetto su Facebook vi aspetto su Instagram su TikTok ma soprattutto vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo da Ombretta e da Arte per te è tutto alla prossima volta ciao e buon autunno e buon autunno e buon autunno e buon autunno